è così, la vita non è così. Torno alla domanda iniziale, quando abbiamo parlato di questa conversione successiva all'apparizione della Madonna del Miracolo, che cosa cambia il cuore di quest'uomo? È interessante, il cuore di quest'uomo viene cambiato dall'elemento della visione, lui vede qualcuno, vede la Vergine, però nello stesso tempo la Vergine non parla, cioè quest'uomo viene cambiato dal vedere una donna in silenzio e qui è interessantissimo chiedersi che tipo di silenzio sia quello di Maria e ne abbiamo parlato anche tante altre volte perché non tutti i tipi di silenzio sono dei silenzi umani, sono dei silenzi umanizzanti, molti silenzi non sono affatto né umani né tantomeno umanizzanti e allora quest'uomo è stato colpito dal silenzio di Maria. Dopo me.